Orgoglio. Io ho delle origini un po' particolari, forse non tutti lo sanno. Sono per metà francese, ma l'altra metà io ho sangue beo-polacco. Mio nonno, il signor ormai non c'è più, Piotr Werkenstein, viene da una famiglia, sì, esatto, Pietro sarebbe, viene dalla famiglia dei Mayer, che è insomma una una branca molto grande della dell'ebraismo. E un giorno mio nonno dovette scappare dalla violenta e ruente invasione tedesca nazista. Scappò, ma venne preso dai russi. In quel periodo russi e tedeschi erano alleati. Quindi...